Non esiste solo l'Europa di Altiero, ma esiste anche l'Europa di Einaudi, alla quale possiamo credere un po' di più e meglio. Sono stati belli anche i ricordi di famiglia e della vita. Io di recente, lungo riferimento alla famiglia, 15 giorni fa sono andato a Caprarola e invito tutti ad andarci perché è bellissima, è una bellissima gita, credo che la conoscerete. Uno dietro il palazzo va su per il bosco e arriva a questa palazzina meravigliosa che segnala anche la capacità di capire il momento bello in cui gestire momenti di vacanza durante lo svolgimento di un grande incarico, quello della Presidenza della Repubblica. Per continuare passo la parola a Massimo Teodori. Dunque, del saggio cinese, Einaudi ha anche le doti spirituali, la passione per i libri, l'amore per l'agricoltura, la fiducia nella ragione umana e nelle virtù elementari che costruiscono il fondamento della famiglia e dei regni, la boriosità, parsimonia, rispetto della tradizione dei padri e delle leggi. Così scriveva il 24 marzo 1954 Ernesto Rossi in un fondo del mondo dedicato all'ottantesimo compleanno di Einaudi. naturalmente di Luigi Einaudi si possono dire un'infinità di cose nella sua lunga e fattiva vita che occupa sostanzialmente i due terzi del Novecento. Io non sono un economista, non sono neppure uno storico economico, più o meno sono uno storico politico e quel che mi interessa di Einaudi tutto, ma che in particolare stasera proprio in presenza dei colleghi che hanno soprattutto un taglio economico e soprattutto la sua, la complessità della sua opera e della sua azione pubblica. Una complessità, veniva ricordato poco fa da Roberto Einaudi che già a 23 anni, nel 1897 aveva scritto un articolo sulla Federazione Europea, lui usa esattamente questo termine Federazione Europea in quell'articolo giovanile. Una complessità di temi, una complessità di interventi che non sono come spesso qualcuno vuole indicare quelli di un intellettuale teorico. Einaudi è, ah non solo è un intellettuale teorico, non solo è un economista di mercato come tutti quanti sappiamo, ma è anche un uomo dalla grande capacità di gestione politica e questo lo ha rivelato e messo in pratica soprattutto negli anni del dopoguerra quando a liberazione avvenuta e forse ancora prima della liberazione, la liberazione di Roma avvenuta ha cominciato il suo cursus di importante esponente politico, prima membro della Consulta Nazionale, poi dell'Assemblea Costituente dal 1946 al 1948, governatore contemporaneamente della Banca d'Italia dal 1945 al 1948, poi vicepresidente del Consiglio, ministro delle finanze del bilancio e infine nel 1948 da presidente. Io vorrei soltanto fare con una specie di indice delle azioni concrete, non soltanto della polemica intellettuale ed economica che lui ha continuato a fare dall'inizio del secolo fino alla sua scomparsa, ma delle azioni di carattere concreto che in quegli anni in cui ha avuto responsabilità primarie e in un'Italia distrutta ha avuto, è soltanto un indice. Lotta all'inflazione, ricostituzione del meccanismo di accumulazione, riforma monetaria come premessa della stabilità. Lotta in concreto, non solo in teoria contro il monopolismo, il collettivismo, il fiscalismo, il protezionismo, contro le pretesi sindacali e le pretese padronali, questo spesso ce lo dimentichiamo, contro gli ordinamenti arcaici, corporativi, arcaici e corporativi. La grande storia dei diritti casuali da Presidente della Repubblica, che appunto era una di quelle cose arcaiche che rimanevano come tuttora rimangono nell'impianto normativo italiano, la liberalizzazione degli scambi, l'abolizione, questo non l'ha fatto malavoli da fare, del valore legale del titolo di studio e dell'albo dei giornalisti. Quindi un personaggio che non è giusto ricondurre soltanto alla sua cifra teorica come qualcuno fa. Io vorrei, per andare nel concreto di quello che ho detto, fare un altro indice, è un indice dei temi che sono negli scritti che sono stati raccolti nel 1955 nel libro Il buon governo, che raccoglie 100 scritti di Enaudi, che sono un po' anche questo un indice della varietà dei suoi interessi e della capacità di andare molto al di là dei problemi della teoria economica, ma per investire completamente l'assetto della società nelle sue dimensioni anche politiche istituzionali. Anche qui un indice, lui si occupa di organizzazione dello Stato, della rappresentanza popolare, della riforma della burocrazia, dell'ordinamento tributario, delle protezioni doganali, dei monopoli, che sarà un altro dei suoi punti molto importanti, delle industrie parassitarie, dei sindacati e della cooperazione, dei giornali e della libertà di stampa, della istruzione pubblica, scuola, i giovani, delle organizzazioni internazionali e naturalmente della federazione europea. Quindi un personaggio che ha dato all'Italia sia in termini di contributo intellettuale, sia in termini di intervento diretto sulla scena pubblica, non solo attraverso la polemica politica, ma anche attraverso le azioni di governante. E a questo proposito, in questa enorme massa di suoi interessi e enorme massa sua capacità di intervenire in tutti i problemi non solo dell'economia, ma della società, della politica e delle istituzioni, io ho scelto due piccole citazioni che ci dicono molto di Enaudi, naturalmente c'è da dire moltissimo, ma queste due citazioni mettono a punto una questione, è la questione del personaggio che non è un personaggio ideologico, è un personaggio pragmatico, sperimentale, naturalmente ha le sue idee, i suoi binari che sono molto profondi e molto radicati, ma metterlo e schiacciarlo su una posizione di ideologismo a mio avviso si fa un torto alla complessità della sua presenza nella vita pubblica italiana di 60 anni, 70 anni. dal Buon Governo, pubblicato nel 1955 per l'editore La Terza su Iniziativa e con la scelta di Ernesto Rossi, ho tratto questo paragrafo sulla libertà. La libertà di cui parlo non è quella della coscienza individuale, la quale vive anche nelle galerie, nei campi di concentramento e fa gli eroi e i martiri, siamo a dieci anni dalla fine della guerra, ma è la libertà pratica dell'uomo comune, dell'italiano medio di esporre pubblicamente, senza timore, il proprio pensiero e di difenderlo contro gli avversari. La libertà delle minoranze di far propaganda contro la maggioranza e di cercare di diventare maggioranza. La libertà di esercitare o non esercitare quel qualunque mestiere o professione piaccia al singolo, senza altri vincoli o impedimenti fuori di quelli richiesti dal diritto altrui di non essere danneggiato dall'operato nostro, di cui la grande polemica sull'ordine dei giornalisti, naturalmente. La libertà di muoversi da luogo a luogo senza sottostare a vincoli che, quando ci sono, non sono niente affatto diversi dal domicilio coatto e dalla servitù della greba. La libertà di dir corna del prossimo e del governo e massimamente di questo nei giornali e sulle piazze, salvo a pagare il fio con adeguate pene in denaro o in anni di carcere delle proprie calunne e ingiurie. Anche qui, in questa concezione della libertà, che è dipinta in tutti questi vari aspetti, noi comprendiamo la complessità del suo pensiero e del suo intervento, non riducibile a un solo paradigma. E ancora di più di questa figura complessa di Luigi Enaudi emerge da quest'altro brano che vi leggo, che è tratto dalle prediche inutili, a cui vi prego di prestare attenzione perché anche questo rimette molti puntini su lei, anche a proposito di tante banali polemiche che anche oggi si fanno da una parte e dall'altra. Non fa duopo, scrive Enaudi, scritto durante la presidenza, prediche inutili, confutare ancora una volta la grossolana fola che il liberalismo sia sinonimo di assenza dello Stato o di assoluto lasciar fare e lasciar passare e che il socialismo sia la stessa cosa dello Stato proprietario e gestore dei mezzi di produzione. Che i liberali siano fautori dello Stato assente, che Adam Smith sia il campione dell'assoluto lasciar fare e lasciar passare, sono bugie che nessuno studioso ricorda. Ma per essere grosse sono ripetute dalle più parti dei politici abituati a dire superata la idea liberale, ma non hanno mai letto nessuno dei libri sacri del liberalismo e non sanno in che cosa consiste. Che i socialisti vogliano dare allo Stato la gestione compiuta dei mezzi di produzione è dettame talvolta scritto nei manifesti elettorali, ma ripugnante ai socialisti che abborrono dalla tirannia dello Stato onnipotente e tali sono tutti i socialisti. Liberali e socialisti sono dunque concordi nell'affermare che lo Stato deve intervenire, come in tante altre cose, nelle faccende economiche, né può lasciare gli uomini liberi di agire a loro posta fuori di un qualunque regolamento statale. In che cosa stia il contrasto proprio delle due specie di uomini, liberali e socialisti, pur concordi sulla necessità dell'intervento dello Stato, non è agevole dire, ma dovendo pur fare il tentativo, dico che l'uomo liberale vuole porre le norme, osservando le quali risparmiatori, proprietari, imprenditori, lavoratori, possono liberamente operare. Laddove l'uomo socialista vuole soprattutto dare un indirizzo, una direttiva all'opera dei risparmiatori, proprietari, imprenditori e lavoratori anzidetti. Il liberale pone la cornice, traccia i limiti dell'operare economico, il socialistica indica ed ordina le maniere dell'operare. Dico subito che, come per ogni altra distinzione, anche questa non è netta né sicura, ben potendo darsi che anche il liberale in certi casi ordini e diriga e il socialista consenta a chi opera di muoversi liberamente al suo talento. Perché ho voluto leggere questi due brani scritti in due contesti diversi? Perché da questi brani, che sono, come sempre la sua scrittura è chiara, è cristallina, non è ambigua, non consente interpretazioni diverse, perché da questi brani emerge l'enaudi, uomo di grande pragmatismo, di ferme idee liberali e liberiste, ma anche di grande pragmatismo di fronte alla realtà. E spero di aver dato questo piccolo saggio che ci consente di guardare le cose nella loro realtà storica. Grazie. Grazie.